Dal catalogo Segui il tuo istinto 7 vi faccio vedere la pelle di elefante che possiamo avere in tinta unita oppure qui abbiamo creato un disegno con questo tondo in questa meravigliosa camera da letto. Qua vi facciamo vedere come fare questo tondo che è un po' più complicato partendo da questo semplice attrezzo, un chiodo, un filo e tiriamo la riga. Possiamo farvi vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.